Rosalinda, Cannavo e Andrea Zenga hanno scelto Osimo, la città natale di Andrea, per una vacanza speciale in famiglia. Questa occasione è stata resa ancora più significativa dal fatto che Rosalinda è all'ottavo mese di gravidanza e aspetta una splendida bambina. La decisione di riunire le famiglie di Andrea e Rosalinda ad Osimo è stata motivata dal desiderio di passare del tempo insieme in un momento così importante e delicato. La vicinanza dei propri cari è fondamentale per Rosalinda, che ha bisogno di tutto l'affetto e il sostegno possibile in vista del parto previsto tra circa un mese. Questa vacanza è stata un'occasione perfetta per rilassarsi e godersi il mare in compagnia delle persone amate, senza lo stress di una destinazione lontana. La scelta di restare vicino a casa ha permesso a Rosalinda di vivere momenti sereni e tranquilli, circondata dall'affetto della famiglia. Durante il soggiorno non è mancata la compagnia del loro fedele cagnolino Kino, che ha reso l'esperienza ancora più piacevole e completa. Ora, con il ritorno imminente alla routine quotidiana, attendiamo con curiosità i prossimi aggiornamenti su questa splendida coppia e l'arrivo della loro bambina. Grazie.